Navigare lungo il Po alla scoperta di libri e autori piemontesi. Riparte, su iniziativa della Biblioteca della Regione, il battello dei libri, con la presentazione di alcuni volumi di editori piemontesi. Il programma prevede due momenti di incontro alle 15.30 e alle 16.10, nei giorni 2, 3, 4, 5, 9 e 10 maggio, al monumento a Garibaldi di Corso Cairoli, all'altezza dei Murazzi del Po. Durante la navigazione, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, saranno presenti l'autore e attori che ne leggeranno alcuni brani.